Disciplina dei corpi civili di pace. Numero 11, contrario. Numero 12, contrario. Numero 13, contrario. Bene, passiamo allora ai voti. Onorevole Pini, sul primo immagino, sul suo. No, sul cosa? No, Presidente. Scusi, non sento nulla. Colleghi, possiamo abbassare un attimo la voce? Mancano due ordini del giorno, a firma Giorgetti. Onorevole Pini, sono arrivati ora agli uffici sopra, quindi sono fuori tempo per poter... No, le ho trasmessi io un'ora fa. Onorevole Pini, come puoi immaginare, io sono qui e le do le informazioni che mi danno gli uffici. Le ho trasmessi io personalmente un'ora fa, quando c'era il question time in corso, quindi mi sembra una cosa assolutamente inverosimile, se no non l'avrei disturbata. Allora, dobbiamo sospendere la seduta per verificare se effettivamente gli ordini del giorno sono arrivati per tempo. Quindi la seduta è sospesa e riprenderà alle 16.30. Grazie. 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 Grazie.